Vedere riconosciute le indenità alle famiglie di operatori sanitari che hanno subito un lutto a seguito dell'emergenza coronavirus. Secondo la FIALS gli operatori in questione vanno assimilati ai soldati che perdono la vita sul campo di battaglia o ai caduti nello svolgimento delle proprie mansioni. La battaglia contro il coronavirus è stata una guerra. A rilanciare la richiesta questa mattina ancora una volta il segretario provinciale della FIALS Mario Polichetti che già lo scorso 29 marzo aveva inoltrato questa richiesta in una lettera al Presidente della Repubblica, richiesta che è rimasta però inascoltata da qui l'esigenza di prevedere e rilanciare un bonus per la categoria professionale. Noi il 29 di marzo del 2020 in piena epidemia covid abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Sanità e al Governatore della Campania chiedendo che si mettesse sul tavolo da subito questa situazione, cioè dei caduti nell'ambito sanitario chiaramente a causa del covid. Paragonando questa fattispecie alle altre fattispecie così come da lei detto, vale a dire come ai caduti in guerra. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, per questo motivo abbiamo indetto questa conferenza stampa per far capire che comunque noi abbiamo sempre l'attenzione puntata sul problema e che andiamo avanti per risolvere il problema o per iniziare almeno una discussione seria. Il Governo deve prendere in considerazione questa nostra istanza.